Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDN.EA e a questo consueto videoacquisti del mese di settembre che saranno veramente pochissimi titoli perché avendo, come avete visto, cambiato il computer ho speso un po'. Questo videoacquisti sarà un po' misto quindi partiamo subito con due film in Blu-ray ovvero Fast and Furious 6 comprato in questa steelbook e qua dentro viene raffigurato un po' tutto il... poi sempre un altro film in Blu-ray che è Star Trek Into Darkness Adrenalinico senza tregua Poi proseguiamo con quello che avevo già fatto l'unboxing degli GTA V in questa versione steelbookcosa E adesso, visto che ho fatto il mio computer nuovo, ho preso due titoli per computer che ovvero SimCity Limited Edition che vabbè non è niente a parte qualche... come potete vedere non c'è perché ci sto giocando E poi, come avrete già visto dal tappettino per il mouse, ho voluto prendere StarCraft 2 Wings of Liberty Poi vorrò prendere anche l'espansione Questa qua è in una versione un po' particolare Non so se si riesce a vedere comunque la scritta StarCraft in rilievo E ha questa, diciamo, copertina dove si apre e si vede questa panoramica di più o meno di gioco Anche se è scritto in francese è tutto in italiano, qua ci sono alcune cose E qua abbiamo praticamente la custodia normalissima Questo è un gioco, è un tipo di genere, questo genere strategico qua è un genere che non ho mai giocato Mi sono avvicinato con questo titolo avendo visto qualche gameplay in giro qua e là E devo dire, ragazzi, che questo nuovo genere mi garba Mi garba Ok Questo video acquisti poverino, questo qua non sta in piedi Qua è un video acquisto molto povero perché come vi ho detto ho già speso tutto per il computer Quindi ho dovuto ridimensionare un po' Ma mi rifarò col mese di ottobre che escono un pacco di novità come Black Flag, poi Batman e... Questa settimana, ah no, all'inizio della settimana prossima esce il mitico Beyond Dai creatori di Every Rain che avrete già visto sicuramente dalla demo sul mio canale Qui è tutto da GeneticDNA e ai prossimi video, ciao ciao ragazzi Grazie